Se nella tua vita hai avuto a che fare o stai avendo a che fare con una persona con un disturbo narcisistico di personalità, sicuramente ti sarai reso conto che è difficilissimo fargli dire la verità. Soprattutto è difficile fargli confessare che hanno mentito, che hanno detto una bugia. E per te è davvero incredibile il fatto che riescano a dirti bugie e non riescono ad ammettere di averle dette anche di fronte a evidenti prove, a cose proprio di fronte al fatto che quello che hanno detto non è quello che è successo, loro continuano ad affermare la propria bugia. E per te questa è una parte difficilissima, perché tu stesso o tu stessa di fronte a quella situazione l'ammetteresti, perché è talmente evidente che è impossibile non ammettere di aver mentito, però per loro è proprio una cosa incredibile. Non lo faranno mai, nemmeno sotto tortura. Disturbo di personalità narcisistico e bugie vanno di pari passo, ma ne sono così convinti di quello che dicono che a volte, anzi molto spesso, mettono in dubbio anche ciò che pensi, ciò che tu ritieni di aver visto con i tuoi occhi. Riescono a dirti che non erano loro anche se li hai salutati con un'altra persona, ma come sempre in questo video l'obiettivo sarà quello di conoscere come pensa un narcisista o una narcisista e quindi poter riconoscere quello che loro fanno per poter avere più potere nella relazione. E allora partiamo dal fatto che una persona con questo disturbo di personalità realmente ha una visione diversa rispetto agli altri di vedere la realtà, di vedere il mondo intorno a loro. È qualcosa che davvero ha a che fare con la percezione proprio della realtà stessa. Hanno, come potremmo dire, un ego così gonfiato, si sentono così superiori agli altri, anche da un punto di vista morale, ok, che quello che pensano loro lo ritengono sicuramente più giusto di quello che pensano gli altri. E se quello che dicono non corrisponde al vero, cioè la realtà li smentisce, racconteranno una bugia per poter mantenere quel controllo che hanno proprio sugli altri e quindi sulla propria immagine che gli altri hanno di loro. E soprattutto quando vengono messi all'angolo, quindi alle strette, riescono a inventare delle capriole che veramente lasciano sballordite le persone che hanno di fronte, perché nemmeno immaginerebbero di poter dire una cosa così tanto falsa. E se soprattutto in quell'angolo rischiano di essere messi di fronte alla propria insicurezza, fragilità, il pensiero distorto che hanno dalla realtà e che quindi non sono proprio così speciali, superiori a tutti gli altri e che quindi tu li stai un attimino riducendo alla loro vera fragilità e la loro vera debolezza, questo li fa fare una reazione all'opposto. Questi sentimenti di minaccia, a ciò che loro vogliono mostrare agli altri, li autorizzano a dire le bugie come mezzo per ottenere questo fine di cambiare la realtà e soprattutto li autorizzano a credere alle bugie che dicono. Molto probabilmente dopo averle dette iniziano per loro a diventare delle verità. Una delle bugie più tipiche è quando fanno promesse vane, nel momento in cui ti raccontano che assolutamente quella cosa la faremo insieme, tu sei la persona più speciale della mia vita, assolutamente io non mi permetterò mai di poter fare questo o quell'altro e tu registri queste parole che ti ha promesso di voler venire in vacanza con te assolutamente quei cinque giorni sulla neve e nel momento in cui tu glielo ricordi e ti dirà non è vero, non ho mai detto questa cosa, in quel momento davvero crederà di non averla detta. E qui allora potremmo fare anche un parallelo con alcune personalità pubbliche che hanno molto potere, potremmo prendere ad esempio dei politici, quante smentite rispetto a quello che raccontano si hanno negli anni. Potremmo fare un esempio infinito di politici che raccontano una cosa con la quale ottengono quello che vogliono ottenere e dopo un anno, sei mesi, un anno e mezzo, nel momento in cui non è più utile per ottenere ciò che vogliono, possono negare di averlo detto, anche di fronte a dei filmati che riportano le loro affermazioni e le difendono anche con grande vigore, con grande forza, addirittura accusando gli altri di mistificare la realtà. Molte volte lo fanno anche con consapevolezza di mentire, perché magari veramente se sono stati presi proprio sul fatto, con le mani dentro al barattolo della marmellata, mentiranno che tu li abbia visti, ma consapevolmente, fino a poi a crederci, ma sicuramente lo fanno con lo scopo di ottenere qualcosa. E il fatto di ottenere qualcosa per loro è la giustificazione sufficiente per poter mentire su tutto. E allora avrai vissuto molte volte la frustrazione di implorare di dirti la verità, che il narcisista o la narcisista ammettano veramente di aver fatto quella cosa in cui tu hai visto, di cui tu hai delle prove e ti sentirei sempre dire no. Anche di fronte a evidenze, foto, registrazioni, film, firme, atti pubblici, loro non diranno mai di aver fatto quella cosa. E se allora nella tua esperienza ti sarai messo lì o ti sarai messa lì di fronte alla persona narcisista e gli avrei chiesto, ti prego, questa volta però di veramente come sono andate le cose. Hai mentito, non hai mentito, di la verità. E lo si fa col cuore in mano più di una volta dicendo non c'è più bisogno che tu menta, fa nulla, anche se non è stato veramente quello che mi hai detto, sono pronto a perdonare questa tua non sincerità. Questo tentativo sarà comunque molto spesso, dico quasi sempre, frustrato perché chi ha questo disturbo di personalità? Non usa i normali canali o i protocolli normali della comunicazione per cui uno cerca di dare all'altro secondo di quello che gli viene chiesto e cercare di mantenere la relazione. Quello che loro fanno è comunicare in base a ciò di cui hanno bisogno. Quindi se mai un giorno ammetteranno una bugia è perché quello gli serve per poter conquistare un po' di fiducia, ma non perché in quel momento credono che sia la cosa giusta o che sia vero quello che stanno dicendo. Sarebbero disposti anche a dire, a confessare delle bugie, l'importante è che questo li possa permettere di ottenere ciò che vogliono. Allora diciamoci cinque modi in cui potremmo riuscire a capire se c'è di mezzo una bugia. Il primo modo è fargli delle domande nel momento in cui c'è la presenza di rabbia da parte sua, cioè quando la tensione emotiva è molto elevata, perché la rabbia molte volte è un'emozione molto forte, in quel momento il controllo che si ha da un punto di vista razionale potrebbe essere un po' minore e quindi si potrebbe riuscire ad avere delle confessioni o delle ammissioni proprio per un moto di rabbia perché incontrollate. Comunque è sempre complicato gestire la rabbia di un narcisista o di un narcisista, quindi è qualcosa da utilizzare con molta parsimonia e soprattutto bisogna utilizzarlo non per provocare ma ascoltare quando la persona è molto arrabbiata che cosa dice realmente. Seconda possibilità è quando il narcisista o la narcisista hanno bisogno di qualcosa da te. Allora in quel momento se è molto grande quel bisogno potrebbe essere anche disposti ad ammettere una bugia, una menzogna detta in un'altra situazione perché appunto vogliono conquistare la tua fiducia per poter ottenere qualcosa di più. Terza tecnica è quella di stare molto attenti a quando si scusano se si sentono braccati o messi nell'angolo e quindi iniziano a far fugliare delle scuse su qualcosa e quindi in realtà stanno ammettendo metà di una bugia trovando però una motivazione che ovviamente non è quella realistica e reale, cioè diranno che è colpa tua, che loro hanno dovuto per colpa di come ti sei comportato tu a fare quella cosa però in realtà stanno ammettendo di averla fatta. Quarta situazione da osservare è quando la persona con questo disturbo inizia ad incolparti di cose di cui tu non è nemmeno a conoscenza e quindi ti dà la colpa del fatto che hanno, sono dovuto uscire per colpa tua perché li hai fatti arrabbiare o che essi non sono tornati ma perché in quel momento? Perché attraverso quelle mezze confessioni ti diranno probabilmente quello che hanno fatto. Quinto, prendi nota di quando ti dicono delle mezze verità. Probabilmente non ti dicono veramente quello che è stato, quello che hanno fatto però iniziano a dirti dei dettagli insignificanti, ti raccontano delle parti di quello che tu vorresti capire che in realtà tu dici ma forse non c'è nulla di importante in quello che mi raccontano però facendo questo ti stanno già raccontando anche altre parti che di cui tu hai dei dubbi e che non ammetteranno mai di aver fatto. In conclusione però ci rendiamo conto che forse il far dire la verità e far sbugiardare le proprie bugie a un narcisista o una narcisista non è un qualcosa di semplice ma nemmeno qualcosa di particolarmente gratificante perché davvero si tratta di usare le proprie energie tutto ciò che dovrebbe essere invece frutto di una buona relazione cioè la fiducia e la buona comunicazione dover sempre invece lavorare sul non mi fido mi sta dicendo una cosa ne intendo un'altra è un lavoro faticosissimo e quindi anche capire dove sono le bugie può avere un senso forse per una soddisfazione personale di pensare di non essere così pazzi di non essersi inventati tutto ma poi realmente nella qualità della relazione che vivo che senso ha e soprattutto ho proprio bisogno che questa persona mi dica tutte queste cose per rendermi conto che in fondo c'è qualcosa che non va che comunque non sono una persona felice in questa relazione io credo che invece dovremo partire da come ci sentiamo e del perché si vive una relazione così complicata quando invece dovrebbe essere una relazione che ci dona più gioia delle sofferenze